Siamo molto contenti, abbiamo lavorato tutti perché ci sia una uscita ordinata del Regno Unito, adesso dovremo vedere i testi, ci sarà il pronunciamento del Consiglio, poi ci sarà il pronunciamento di Westminster e naturalmente il Parlamento europeo è pronto a fare la propria parte e il proprio dovere. Grazie.